che effetto fa a ritornare a Torino, questa volta non da giocatore, vedere che la città si muove e che il basket sta ritornando gradualmente in questa metropoli? Innanzitutto sono passati tanti anni, ho visto che comunque il palazzetto è stato rinnovato e vedo con piacere che c'è anche una ampia o comunque buona affluenza di gente, quindi questo vuol dire che il basket ancora anche nelle località diciamo più lontane rispetto al centro Italia, al sud, si sente, questo è importante. E poi ogni volta che ti muovi tu il pubblico entusiasta, gli applausi, che effetto fa? È una bellissima sensazione, vuol dire che la pallacalestro lascia comunque dei ricordi importanti e un grande giocatore di pallacalestro è anche un grande uomo di sport, ricordiamo che tu sei stato anche portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi. Ma in effetti è sempre una bella sensazione e anche soddisfazione il fatto di comunque entrare in dei palazzetti ed essere apprezzato sia come giocatore che spero anche come persona. È chiaro che bisogna vedere poi in quali palazzetti io entri, però è sempre un bellissimo piacere. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti